Ciao gente, allora in questi giorni stavo facendo un po' di modifiche al canale e quindi mi son detto perché non rifare anche la copertina e quindi sono andato nelle impostazioni, modifica grafica al canale e come vedete ci vuole una dimensione precisa, quindi 2560x1440 pixel e in realtà la cosa è un po' più complicata di quello che può sembrare e vediamo subito in che cosa consiste il problema La copertina che viene messa appunto come sfondo di YouTube non è un'immagine statica, nel senso avvengono un po' di magie dietro le quinte, riadattamenti, responsive eccetera per esempio se ridimensiono, vedete, esce fuori del nuovo spazio da riempire anche qui gli allineamenti sono un po' diversi eccetera eccetera e quindi cosa fare? Quando voi fate l'upload, vi farò poi vedere YouTube vi dà la possibilità di croppare quindi di selezionare una porzione di questa immagine anzi ve lo faccio vedere adesso Il problema è che è meglio che noi stessi stabiliamo la dimensione di questa immagine perché altrimenti poi risulta abbastanza difficile ricreare delle visualizzazioni ripetibili Ho provato a cercare appunto su internet delle soluzioni già pronte però ho visto che non funzionavano al massimo Vedete qua vi fa vedere come viene nel desktop quindi con questi spazi laterali come viene vista nella tv che in realtà non ce ne frega più di tanto e come viene vista sul cellulare voi potete fare seleziona in alternativa vi permette di fare ritaglia foto io ve lo sconsiglio però vi faccio vedere in che cosa consiste nel senso vedete questo spazio colorato diversamente questo qui è quello che effettivamente ci interessa a noi nel disegno e tra l'altro se notate qui l'etichetta rossa mi viene tagliata in modo errato quindi non fate troppo affidamento in questa visuale quindi questa qui appunto è come adesso e vi faccio vedere come gestire questa copertina senza dover fare il ritaglio innanzitutto dovete avere Inkscape installato o comunque qualsiasi programma che vi permetta di rielaborare le immagini qui mi sono messo appunto delle guide che ci permettono di appunto posizionare meglio gli elementi all'interno di questa pagina e appunto la dimensione di questa pagina è quella 2560 pixel per 1440 qui ho fatto un overlay appunto che mi permette di vedere effettivamente le zone quindi per avere ancora una sicurezza in più e a questo punto diciamo dovete solo più posizionare gli elementi all'interno della pagina e vi faccio vedere appunto come avviene l'esportazione quindi io vi consiglio di rimanere all'interno del diciamo del foglio come vedete qui il verde l'ho messo anche oltre perché diciamo non quello che mi interessa in questo momento è più che altro la parte centrale quindi a questo punto per farvi vedere che effettivamente sto modificando mettiamo giallo ok a questo punto faccio file esporti immagine png e qui dovete fare un attimo occhio perché non vi viene esportata il foglio la pagina ma vi viene esportato diciamo il disegno quindi mi raccomando cliccate qui su pagina a questo punto abbiamo appunto le dimensioni in pixel che sono esattamente quelle che ci servono 2560 per 1440 e a questo punto qui vi viene detto un percorso dove salvarla io me la salvo qua e faccio esporta ok quindi a questo punto sostituiamo di nuovo l'immagine quindi modifica la grafica del canale seleziona l'immagine e qui abbiamo quella con la scritta gialla apri ok qui ci fa vedere l'anteprima sembra abbastanza buona e quindi facciamo seleziona salvataggio in corso perfetto quindi abbiamo sostituito la copertina con questa qui nuova e anche qui possiamo controllare avvengono appunto queste sovrapposizioni che non sono sempre tanto carine quindi appunto se mettete degli elementi tenete conto di questo aspetto perché comunque ad alcune risoluzioni o a certe dimensioni di pixel quello che accade ecco tipo qui è perfetto però appunto c'è stato uno zoom quindi non fate riferimento alle dimensioni che vedete qui per esempio con analizza elemento ma fate riferimento al file svg che appunto vi metterò in descrizione e quindi in questo modo riuscite anche voi a fare delle copertine voglio farvi vedere la dimensione quindi 1262 è totalmente diversa quindi appunto se volete anche voi fare una copertina che sia il più possibile gradevole da vedere e che gestisca le ridimensioni potete seguire il file svg che appunto vi lascio in descrizione ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video